ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video come vedete dal set oggi video unboxing e parliamo di una collaborazione perché questo video è stato possibile realizzarlo grazie ai ragazzi di ricondizionato ok uno shop che vende iphone ricondizionati se volete approfondire questo discorso trovate il link ovviamente qua sotto in descrizione io so al 50 per cento cosa c'è qua dentro perché è un po una sorpresa come avete anche letto dal titolo e non vedo veramente l'ora di aprire questo pacco assieme a voi perché sono super super curioso di quello che c'è qua dentro perché dico che so al 50 per cento cosa c'è perché lo capirete lo capirete vedendo anche il video del buon antonino galliano fondamentalmente erano due smartphone ma non sappiamo quale dei due è arrivato a chi quindi sono super super curioso e veramente non vedo non vedo pronto che piccola incursione ovviamente sono antonino galliano salve signori si faccio questa incursione perché vi devo dire una cosa ma già in realtà luca vi ha accennato qualcosa e anch'io qualcosa da aprire qui di molto succulento qualcosa che è luca non ha e che rosicherà molto no non è vero è una bella collaborazione quella che stiamo facendo con gli amici di ricondizionato ok che ringraziamo e vi dico che io ho aperto anche il telefono che mi hanno mandato per questa collaborazione quindi luca lascia il mio canale qui sotto nella descrizione il video nelle schede ora invece di stare al telefono e nulla basta già troppa esposizione su questo canale luca sta tornando vi lascio il suo video e mi raccomando passate anche sul mio canale dunque direi di non perdere altro tempo e unboxare velocemente quello che c'è qui dentro perché io non sto più nella pelle veramente non ce la faccio più poi i corrieri hanno fatto anche ritardo per consegnarmi questo pacco dove arrivare in realtà già un paio di giorni fa ma purtroppo non so corriere sparito completamente quindi il pacco ha tardato ad arrivarmi quindi ora finalmente che ce l'ho tra le mani se riuscissi ad aprirlo finalmente possiamo conoscere il contenuto della scatola ok da subito no spoiler perché noto che la scatola non è quella originale come potete vedere da qua direi di non perdere veramente altro tempo che unboxing proprio subito 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 capire come si apre ok prima linguetta seconda linguetta intanto ve lo spoiler o è un iphone sicuro al cento per cento eccolo qua iphone 12 nella colorazione nera con tanto di coverina offerta dallo staff finalmente dopo aver venduto il mio iphone 11 o di nuovo in mano un iphone questo sarà il protagonista di tanti tanti video che vedrete qua sul canale ovviamente settembre è un mese particolare e i ragazzi di ricondizionato ok cadono a fagiolo per potermi permettere di fare appunto tanti contenuti su questo prodotto l'iphone 12 è uno smartphone che mi ha sempre incuriosito se mi seguite da più tempo sapete sicuramente che ho provato iphone 12 mini questo 12 standard non l'ho provato e sono molto molto curioso di capire come va vediamo se c'è altro nella confezione ma direi proprio di no quindi iphone e nient'altro ovviamente io vi invito a fare un salto sul sito dei ragazzi di ricondizionato ok anche per analizzare un pochettino i prezzi nel frattempo sto accendendo l'iphone così vediamo se è tutto funzionante ma ovviamente sì gli do anche una una rapida occhiata ovviamente al ricondizionato ma praticamente identico 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 al nuovo veramente alcun tipo di problema assolutamente praticamente perfetto sono contentissimo che mi sia arrivato in questa colorazione nera perché ve lo faccio vedere subito giusto pochi giorni fa ho acquistato su amazon anche due accessori che cadono veramente a fagiolo per questo iphone ovviamente voglio subito provare ad installarci il portafoglio mag safe originale apple e ma tanta tanta roba non so quello riuscite a vedere comunque dalla dall'inquadatura ma sta veramente molto 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 bene e beh niente proverò questo iphone ci saranno tanti tanti video da ora in avanti in cui lo vedrete 3 days later dopo qualche giorno di utilizzo sono pronto per darvi le prime impressioni arriverà anche la recensione e il test dopo un anno di questo iphone ovviamente lo vedete è il mio smartphone principale ho installato anche il wallet mag safe con le mie carte finalmente ho rimesso in modo anche il mio apple watch tutto quanto quello che avete visto in questo video trovate linkato sotto una descrizione del video e ovviamente trovate anche il link allo shop che ha permesso tutto questo vero ricondizionato ok ovviamente io vi invito a passare sul loro store date un'occhiata a tutti gli iphone che hanno in vendita perché i prezzi sono veramente molto molto interessanti ma come si comporta questo iphone è qualche giorno ormai lo sto utilizzando e devo dire che va davvero davvero benissimo ero abituato con iphone 11 ad un'ottima durata della batteria e beh qui posso dire che tutto quello che facevo con iphone 11 riesco a farlo benissimo anche qua sarà che lo schermo oled consuma anche meno io utilizzo costantemente la modalità dark sullo smartphone e quindi secondo me riesco a ad avere anche qualche minuto in più di autonomia ma veramente mi sta veramente soddisfando alla grande questo questo iphone 12 fino adesso utilizzato un oneplus 9 ma devo dire che oggettivamente tornare a queste dimensioni è veramente tanta tanta roba e finché utilizzato il oneplus ho detto ok prendo il 13 pro max appena arriva però adesso dopo un paio di giorni devo dire che tornare a queste dimensioni ea questo peso così contenuto beh inizio veramente a pensarci e vedremo arriverà al suo momento e poi valuteremo magari insieme fatemi sapere questo nei commenti cosa ne pensate di questo video di questo unboxing se conoscevate già oppure no ricondizionato ok io ovviamente ve lo ricordo ancora una volta pigiate nel link che trovate qua sotto in descrizione per andare a visitare il loro store io sono luca crocco e noi ci vediamo sempre qui a più presto sul mio canale youtube con tanti video su questo iphone 12 vai ricondizionato ok ciao 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 ciao